Reggia Palace Hotel, un complesso alberghiero ideale per convegni, congressi e riunioni d'affari. Reggia Palace Hotel, ben 12 sale da 15 a 500 posti, completamente rinnovate, corredate con i più sofisticati sistemi audiovisivi e per gli ospiti piano bar, discoteca, piscina e campi da tennis. Reggia Palace Hotel, all'uscita a caserta sud dell'autosole. Reggia Palace Hotel, all'uscita a caserta sud dell'autosole.